Eccoci qui con Dario Aversa, capitano del barrio cubano che si è imposto in questa prima partita della stagione sull'Acriapoculo. Allora Dario, questo per te è un esordio dato che è la prima partita. Come si sei trovato con questi nuovi compagni? Ancora ci dobbiamo assestare, oggi è stata una partita difficile, sicuramente non abbiamo espresso il miglior gioco, ci dobbiamo conoscere, la prima partita si sa, non va sempre benissimo, anche se grazie a due gol di Salvuccio ci siamo riusciti a imporre per 3-2 contro. Ma cosa ti ha convinto a scegliere questo progetto, comunque ambizioso, perché il barrio l'anno scorso era nella silver, adesso nella gold, dove volete arrivare? Il nostro obiettivo è solamente quello di divertirci, di giocare tranquillamente, oggi è stata una partita anche abbastanza in reposetta, non mi è piaciuta, però non abbiamo un obiettivo preciso, il nostro non è, certo non vogliamo cercare di arrivare nelle fasi finali e cercare di, ripeto, di esprimere un buon gioco, poi quello che viene, viene, ovviamente non lo possiamo stabilire ora essendo una squadra abbastanza nuova. E tra, vedendo la classifica fra Caffè Sicilia, Team Monceri e proprio l'Acriapocola, chi ti spaventa di più? Guarda, ti dirò, io l'anno scorso con i Carioca, proprio quelli che temevo di più, ero proprio la squadra che ho giocato oggi, l'anno scorso ci hanno rifilato questa brutta sconfitta, che non ci ha permesso di accedere alla fase finale del torneo, cioè proprio la finale, quindi proprio quelli che mi spaventavano di più sicuramente erano loro. Ovviamente il Caffè Sicilia lo conosciamo bene, il Team Monceri anche, sono due ottime squadre, però certamente quella con cui abbiamo giocato oggi. Va bene, alla prossima, grazie, ciao. Grazie a voi. Ciao, ciao. Tu subscribe e natural indubbiamo ai nostri notch.